Ripeti a voce alta, io non ho paura, io entrerò nel corpo di Poppy Playtime e non succederà nulla di brutto, giusto Fede? Cosa? No, no, non vengo, no, 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 non neanche guardato cosa c'è di fronte a me Però ogni volta dici che ti piacciono gli horror, oggi abbiamo una bella avventura horror, ci divertiamo Allora, parliamoci chiaro anche se non mi posso girare, però puoi finta che io ti stia guardando negli occhi L'abbiamo giocato, l'abbiamo giocato su 2Players Ti sto guardando negli occhi No, no, ecco, allora, l'abbiamo giocato su 2Players Fun Console, me la sono fatta sotto, quindi no, non lo voglio anche su Minecraft Dai, Fede, era abbastanza tranquillo comunque alla fine Ma col cavolo, Steph, ma col cavolo, stavo morendo, mi è venuta un'ansia che tu non hai idea, anzi, l'hanno visto tutti, quindi mi è venuta un'ansia Vedete, vedete cosa incredibile, eh? Vai Super Pro Player Super Pro Player Non ce l'hai Così, così non faccio nulla, sono morta, sono morta, non posso fare niente No, non rinasco, Steph No, no, no Io vado da sola, allora No, non mi lasciare qua, è peggio Ciao, bene Sto bene, io non mi faccio mai nulla Sei pronta? Abbastanza Entriamo nella sua testa, forza, forza Abbastanza nel senso più no che sì, da dove si entra? Da qua Ah, da qui Buongiorno Cosa ci sarà nella sua testa? Tanti giocattoli, ma spezzo Sì, e cose brutte Oh Allora Allora Ok Sono tutti giocattoli quelli, no? Sì, molto strani Ok È tipo una fabbrica di giocattoli il suo cervello E beh, è dove vive lui alla fine Ok, però guarda qua Dobbiamo dare cinque soldatini Cinque barchette Cinque trenini Cinque elicotteri Cinque pikachu E cinque razzetti Però noi cosa abbiamo? Perché dovremmo combattere? Aspetta, Steph Abbiamo delle monete da gioco Quindi quelle che si inseriscono Quando vai, esatto Vabbè, ma stupendo Allora Aspetta Prenditi la spalla e le mele d'oro Che probabilmente ci serviranno tra non molto tempo E quindi tipo Se io vado qua Inserisco una monetina No, vabbè Mi sta piccando Ma cos'è? Abbiamo un problema Cos'è? Cos'è, Steph? Non riesco a colpire È troppo piccolo Ti aiuto, ti aiuto Mangia una bella d'oro No, Steph Ma perché gioca? Ti ha dato Ti ha dato un razzo? Io pensavo Metti la monetina Ci dà il giocattolo E desci un giocattolo Finito Invece esci un demone Dall'inferno Ok No, Steph Vado? No Aspetta che mi mangia una bella bistecca blu Steph Dimmi Mi spieghi una cosa Perché ti è venuto in mente Di entrare nel cervello di Aghi oggi? Perché vogliono scoprire tutti Cosa c'è nel suo cervello No, non lo voleva scoprire nessuno Siamo tutti bene così Arriva? Ok Ok Sapendolo lo sto stendendo stupido 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 Ok Allora Abbiamo due razzetti Ok, aspetta Io ne butto uno qua Chi esce fuori Questo è un po' più grande, Steph Un po' più facile È tipo un dino strano Ma perché mi devi pestare? Io lo sto camperando questo Ok Hai visto? Sono più forte di te Allora In realtà, Steph Se fai altri giocattoli Sono un po' più grandi Quindi un po' più facili Ok Ma guarda Ma lui l'ho camperato Finito Ho quattro razzi Tu ne hai uno Quindi abbiamo finito Allora Io mi metto a far questo Vediamo chi capita No, che brutto che sei Aiuto No Ma Questo è un pulcino pazzo Ok Lui dà l'elicottero Ne devo fare sempre cinque Esatto Io ne ho uno Quindi altri quattro Questo dà il trenino Ok Allora Io ti spacco la faccia Appena scendi Pam Così Aiuto Ok Ok Perfetto Allora Ho finito l'elicottero Abbiamo finito i raggi E tu hai finito quello? No, col cavolo Col cavolo Sono andata anche a mangiare Vabbè Con calma Tranquilla Ma che figo questo Bellissimo E lui dà il soldatino Ok Va bene Uno Due Tre Ok Sono a tre Mannaggia È caduto Ok Perfetto Allora Opla Chi sei? Ah è il polo robotico Giusto Eh te l'ho detto No perfetto Ma questo non muore Eh lo sapevo Che tanto era il peggiore Quindi non lo volevo fare No, 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 no Allora Ti attacco saltando Io ti distruggo Ma quanto spar E' più forte Sì Palesemente E' più forte lui Io ti avevo detto Che non li volevo fare Perché i polli robotici Non so perché I polli Sono malefici Alla fine sono sempre I mob peggiori Guarda Te ne ho fatto fuori uno Dopo due ore e mezzo Vieni qua pollo Ti sfida Duello Uno Critico Due critici Tre critici Quattro Ok Io sto facendo L'ultimo Steph Come si è messo? Eh qua manca Un tre pikachu Ah non era morto Non era morto Oh wow 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 Vieni 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 Steph Steph S'è rotto S'è rotto S'è rotto No S'è rotto No Cioè mi sei proprio Rotto il macchinario Ed escono all'infinito Aiuto No sono all'infinito L'ho steso C'è la barchetta per terra Ok Io non ti vorrei far manicare Ma il pollo ti sta pensando Ok Ok Non faccio l'assassino Aiutatemi Steph come faccio Perché Oh Finalmente Allora tieni Perché sono quelli Di cui ne avevo solo uno Quindi Accumulali con i tuoi Io penso agli altri cinque Quindi Allora Allora Cinque di questi Cinque di questo Sei di questo Cinque di questi Ok mi stavo spaventando Ah Melle d'oro Le prendo volentieri Ce ne sono anche per te Io ne ho tante Sì ma io ne ho tante Prendi anche quella inciantata Per prendile tutte Non fare io ne ho tante Non c'è quella inciantata da me Qua nel Ah ah La devo rubare da qui E beh no La lasciamo Cosa dobbiamo fare? Non lo so Che cos'è questo? Il cuore? Il cuore Scienziata Aiuto Huggy Wuggy mi ha rintrappolata Ha rotto la chiave E l'ha nascosta Salvatemi Amica mia Come te salviamo? Non lo so No Ho perso capito No Buongiorno Vai Cerca Ho trovato un pezzo della chiave Ok Non so quanti ne servono Ma tutto dobbiamo aprire? Probabilmente dobbiamo craftare Una chiave Però non so quanti pezzi servono Fer Ecco ne ho trovato uno Ok Boh quanti saranno? Non lo so Ok sto andando velocissimo Cerchendo Ho trovato un altro pezzo? Ok Io ne ho uno Non è che sono tre Steph Provaci No a me sembra più grande la chiave Allora fammi vedere come sono Una chiave non può essere troppo grande Steph Provaci Fer Secondo me sono quattro pezzi Cerca gli armadietti che mancano Secondo me sono tre Per cui non c'è nulla Dai Fer Stef lo sai che non hai mai ragione Quindi perché ti impunti Dammi il pezzo della chiave Vieni Adesso preparatevi No 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 fermo fermo Steph Fermo non fare nulla Perché si stanno prendendo tutti i popcorn Per vedere la tua figuraccia Quindi adesso andate a prenderli Fatevi popcorn Mettete pause Poi riprendete il video Per vedere la figuraccia che farà Steph Non ho creato la chiave Serve un altro pezzo No non ne serve Non la sai fare Dai a me Fer Dai a me Non posso dartela L'hai fatta No L'hai fatta Non l'ho fatta Fammi vedere la chiave Fammi vedere un pezzo Questo è il primo pezzo È una chiave intera Buoni popcorn ragazzi Bene grazie Per avermi liberata Mi dispiace per quello che sta succedendo Nella fabbrica Sapete ho costruito io tutti i giocattoli Che sono qui Purtroppo qualcosa è andato sostorto Durante la creazione di Aghi Tu sei qualcosa Guarda ce ne siamo accorti già Grazie mille Adesso è vivo Malvagio e pericoloso Anche questo piangeremo tanto Beh cosa sono quelle facce Può capitare No Guarda sinceramente a noi non capita E nemmeno ai consulini Magari a te scienziata pazza Signorina lei è tornata Nella fabbrica Perché noi ci siamo andati Ed è successo qualcosa di molto Aiuto Qualcosa di molto brutto ad Aghi Forse lei non ne ha idea Vabbè a me sembrava Che ne fosse consapevole Sì però qui ci siamo andati Noi nella fabbrica Quando abbiamo giocato il gioco Mica lei Non c'era lei Bene No Allora io ho un impegno Devo Devo pitturare questi muri Sì Vero? Sì Perché ho notato che un blu Troppo poco acceso Quindi lo rendiamo un pochino Più acceso e brillante Come quello del pavimento Vedete che c'è una bella differenza Come facciamo? Non lo so Sembra molto Io mi mangio una mela d'oro Ma ci sono quelli piccolini anche No quelli piccolini no E poi è pieno di queste pozze Steph Che sicuramente c'è qualche acido Io ho visto anche Aghiwaghi grande eh Aspetta Ma anche io l'ho visto No no È sparito No 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 Eh ma quanto sono brutti Aiuto E poi ci sono Sono bambini Quelli imprigiorati No ma mi dissocio Ma mi dissocio signori Hanno rapito i bambini Eh ma dobbiamo farli No 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 Bene Steph io allora un attimino Mi sto guardando intorno Perché anch'io ho visto quello grande Ce l'abbiamo visto tutti Eh allora Guarda torno Io faccio fuori questo Prima che inizi A fare il matto È finito Aiuto Comunque sembra che non risponda ai colpi Giusto? No beh Secondo me non riesce a camminare Per andare da questa parte Aglia che male Steph fai attenzione Sono un po' più intelligente E come liberiamo però il bambino? È quello che non ho capito È proprio quello che non mi chiede Come ti possiamo aiutare? Io speravo facendo fuori Quello piccolo E invece no Eh Fere ne hai idea? No Non lo so Forse che dobbiamo continuare a farli fuori A ucciderli Ah dici facciamo fuori tutti? Io ti butto dalla lava Non brucia Non ha funzionato Aspettola con me Aiuto 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 Fere Perché il tuo non ha fatto nulla E il mio invece è così Arrabbiato Perché io sono carino E tu no Maledetto Cosa ci fai qui? Schifoso Lurido Maledetto Fere c'è No Sono caduta io Fere c'è un problema Eh lo so Io ne ho tanti No c'è un problema più grande Allora Aiutatemi Come faccio? Mi sto arrabbiando Non riesco a colpirti Sei un nano Sei Perché devi essere basso? Mi fai finire nella lava Perché devi essere basso? Che domande sono? È un peluche Stef È un mini peluche Dove sei? Vieni qua Vieni qua Tu non hai capito Spari Io Fere io ti giuro Che prima o poi facciamo una petizione Per avere solo dei mob alti Da combattere Comunque Fere c'è una cosa che ti devo dire Dimmi Mentre stavo combattendo È comparso quello grande No Per qualche secondo ed è sparito di nuovo No no dai Stef No no te lo giuro No 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 Quindi Fere non ce lo siamo immaginati prima Fere l'ho rivisto dietro di te Non ti voglio far panicare Dai dove? È caduto nella lava Sto morendo Sono morta Ok È l'ultimo Critico Stef secondo me Allora nel momento in cui uccidiamo i suoi simili piccolini Questo qua appare Ci sciolta No io secondo me lo incontriamo più avanti Fere aiuto No no Stef Non ce la faccio Ora l'hai visto? Ma tipo svanisce Fa una roba stranissima Lo so Ma che diavoleria è questa? Non esistono ste robe su Minecraft Tutti i bambini sono stati liberati Ma rimanete qui? Io vi consiglio di correre Per il dietro di te Dietro di te Dietro di te Non lo digo Non lo dire Stef ti prego Non lo voglio sapere Corey No non mi giro Per il dietro No Stef Ma la sto facendo sotto Stef Basta Stef 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 Ecco Corri Corri Go No non ce la faccio Cos'è risolvo Fin'altro Stef 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 St'alrivando addosso Io ti abbandono Prendi Stef Non prendere me Che son più braccia di te Maledetta Ah Sono avanti io Allora, è dietro comunque Sì, sì, non l'ho visto saltare L'ho appena visto saltare L'ho appena visto saltare Mi sto incastrando, sto panicando Prendi Steph L'ho superato di nuovo No, 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 Steph No, 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 io ti lascio Ti uccido, giuro che se arriva ti uccida Io ti lascio qua Sono disposto a mollarti qui, non me ne frega È sempre più vicino Sembra più veloce di prima Ma noi siamo lenti, è quello Non lo so, perlomeno la sensazione Sì, no, no, abbiamo nella solo un S secondo me Ok Ok, 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 ok Ah, mi ha colpito, mi ha toccato, mi ha toccato Stai scherzando? Mi ha toccato, mi ha toccato Che schifo Ma se sei viva, va già bene No, Steph, insomma, sta male Molto? Ho tipo quattro quali e mezzo Non riesco a contarli ora Per, io ti vorrei dire che sei lontano a lui Ma mentirei Ma è finito? No, per, è lunghissimo Mi sta incastrando Mi sta venendo il panico potentissimo Perché mi ha pure toccato Per, è infinito, è infinito Steph, sono morto Ti hai ricolpito? Ti ho ricolpito No, no, corri, corri Oh, mio Dio Mi sono incastrato Steph, sono morti Steph, abbiamo brutta notizia Che succede? Appena arrivi, salta Posso mangiare? Sono caduto Come si è caduto? Sono caduto, stavo panicando Allora Vado Però vai qui, aiuto E non l'avevi visto Corri, 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 corri Io lo faccio Ma sono lenta per il parkour Quindi se vuoi superami Sono caduto di nuovo Steph, abbiamo un problema Fa il parkour Sta provando a fare il parkour L'ho appena visto morire Ok È un po' stupido Meno male Sì Allora Ok Ok No, 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 no Per, ci stai seguendo Ma come faccio? Vai, 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 vai Per, l'ho visto volare Steph, stai zitto Steph, stai zitto Mi stai facendo panicare, Steph Zitto Per, è caduto e ha volato Zitto Per, è caduto e ha volato Cosa vuol dire è caduto e ha volato? È caduto nella lava Nell'acido Quello che è Non me ne frega E ha volato Beh, perché Scusa, Steph Questo è il suo corpo Può fare quello che vuole A poteri illimitati Però io non vorrei dire Ma sei dietro No, non è vero Sì No, non mi giro No, no, se Allora, se non lo vedo Non c'è Non lo vedo non c'è Per, ti stai raggiungendo Steph Già mi ha toccato due volte Uno stalker maniaco schifoso Ti denuncio alla polizia Guarda Io finisco il video e vado alla polizia Per, è Zitto Non mi cazzo Zitto Zitto Io non so fare Corri Non so fare il parkour Corri Corri Sto provando Questa è la mia massima velocità Lo sai che sono un piccone A chi è scarso Che è un tutto dire Guardate Io sono molto scarso E' rasvilata la tartarica No, no, no Siete caduti in contemporanea Bene, sta venendo il torso Gli d'aiuto Corri e salta Corri e salta Corri e salta Sta nuotando Che sei nu Ce l'ho fatta Ci sei? Sì, via, premi Oh mio dio L'ho finito Scappa Scappa Corri più che puoi Via, 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 via Non è che ci segue Che adesso finisce il parkour e ci segue Non lo so Non so se può uscire dal suo stesso corpo Non ne ho idea Effettivamente Oh, ma cos'è quella No, 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 no Ci fermiamo e ci vediamo in un prossimo video Ciao